Una settima edizione ricca di fiori, odori, colori e ovviamente di attenzione per le zone collinari di Salerno, per Ogliara in Fiore, l'infiorata di Salerno, il cui appuntamento si è rinnovato in questo fine settimana grazie all'organizzazione dell'associazione Oratorio del Campanile di Ogliara. Dopo una giornata di sabato dedicata alla commemorazione dei soldati defunti tra Sant'Angelo e Ogliara e la benedizione dei fiori con la preghiera dell'infioratore, c'è stata la notte dei fiori con decine di artigiani ed artisti del fiore impegnati a realizzare i veri e propri quadri floreali, dei tappeti colorati che hanno arricchito il sagrato della chiesa di Santa Maria e San Nicola di Ogliara e le strade limitrofe in vista del clou della manifestazione con la processione per il corpus domini, la solennità del corpo e sangue di Cristo. Questa iniziativa è stata voluta proprio per valorizzare ancora di più questa solennità che è centrale alla vita del cristiano e di fatto rende visibile quello che è la comunione, perché se non ci fosse stata un'unità di intenti e di lavoro insieme sotto lo stesso progetto, questi ragazzi, 130 persone che lavorano a questo enorme progetto hanno iniziato a gennaio con il progetto iconografico, con la quantità dei petali, della quantità dei fiori, perché è uno studio molto 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 raffinato, quindi tenere 130 persone sotto lo stesso progetto è fare comunione, questo è proprio costruire la comunione ed è proprio quello che stiamo facendo in chiesa. Gesù Cristo ci chiede di stare sotto gli stessi progetti di amore e di donazione di un valore, anche di sacrificio. Oltre 130 gli infioratori al lavoro già dal sabato pomeriggio e quindi la mattinata seguente per mettere in pratica quanto studiato e disegnato a partire da gennaio con un'attenta ricerca iconografica, per simboleggiare la natura che si offre al Signore senza alcuna alterazione e coloranti, ovviamente, artificiali banditi. Devo dire la verità è una cosa stupenda, anche perché questa è la prima volta che partecipo, però sono rimasto colpito. C'è un gioco di squadra da tutti, un'occasione bellissima per questa manifestazione che ogni anno diventa sempre più grande e sempre più bella. Tutti elementi naturali, nessuno artificio, altrimenti al massimo sabbia, mais, erba, terriccio, petali, qualsiasi cosa, però tutto naturale. Quando c'è avuto anche per preparare, insomma, prima di iniziare la lavorazione, anche per tagliuzzare i petali, le foglie? Siamo qui da venerdì per macinare, preparare il terrizio, setacciarlo, preparare i vari elementi e poi tutto il resto sono mesi, sono ormai 6-7 mesi che prepariamo. Tra i vari tappeti di fiori c'è anche l'ultima cena, fra l'altro per completarla servono 20 ore di lavoro, se non di più. 20 ore, tantissimi mazzi di fiori, tantissimo lavoro e tantissima passione. Difficile? Molto, molto, ore e ore. Stiamo qui da ieri pomeriggio. Quante persone sono coinvolte? Siamo in sei.